Noi abbiamo fatto un percorso d'ascolto in cui abbiamo invitato tutti i membri dell'Assemblea Comunale, che sono circa 80, è emersa una linea maggioritaria che in qualche modo privilegia la scelta unitaria. Alcuni sostengono che la scelta migliore sarà quella delle primarie, di partito. Ieri sera ci siamo dati un impegno ulteriore per far crescere il gruppo che sostiene la scelta unitaria in maniera tale da arrivare a una candidatura condivisa da tutti i membri del Partito Democratico perché la riteniamo in linea con quello che sta succedendo nella città. Abbiamo visto già sabato l'inaugurazione della Capitale della Cultura che è stata una dimostrazione di questo lavoro di squadra, di questo lavoro orchestra, come è stato raccontato, che in qualche modo è un'eredità anche per la prossima campagna elettorale e che credo che la città ha apprezzato e credo che da parte nostra ci debba essere l'impegno a portare avanti quel modo di lavorare. Sul candidata sindaco c'è poi anche un discorso extra Partito Democratico, un discorso di coalizione, penso ad esempio al Movimento 5 Stelle che recentemente ha fatto presente di essere coinvolto nella scelta, anche l'ipotesi delle primarie andrebbe un po' in controtendenza a questo spirito di squadra. Esatto, infatti in questo mese abbiamo fatto anche un ascolto in maniera molto soft, però con le forze politiche che in qualche modo già sono in maggioranza, anche con le liste civiche che sono già in maggioranza e anche con qualche forza politica che così guarda da fuori e sta valutando se entrare e che tipo di contributo dare. Mi riferisco ad esempio a Più Europa, a Sinistra Italiana. Con il Movimento 5 Stelle abbiamo già fatto alcuni incontri e sostanzialmente è comune, e questo rafforza questo percorso unitario che stiamo facendo, che le candidature che abbiamo messo sul tavolo sono largamente condivise perché sono in linea con la scelta e la gestione politico-amministrativa di questa città. Le candidature che sono sul tavolo attualmente, quella che ha riscosso da parte dell'Assemblea Comunale nella fase di ascolto un consenso importante è quella di Andrea Biancani e poi ci sono anche altre candidature che sono quelle di Vimini e quella di Sara Mengucci che ieri sera chiaramente l'ha esplicitata durante l'Assemblea. Io penso che dobbiamo cercare di andare a vedere se la candidatura di Andrea ha la forza di allargarsi in maniera tale che possa essere l'espressione di tutto il Partito Democratico e capire se da parte degli altri contendenti e da parte del Partito Democratico c'è un lavoro di responsabilità di portare ognuno un contributo per rafforzare la candidatura di Andrea e eventualmente la candidatura di altri se la riteniamo in linea con questo spirito di squadra che stiamo in qualche modo rafforzando con un percorso democratico, aperto, schietto, che sembra in qualche modo essere quello utile e corretto per la città.